Come annunciato con una lettera, il sindaco di Domodossola torna a chiedere la riattivazione del punto nascite del San Biagio. E di questa mattina la missiva di Pizzi, indirizzata al governatore Cirio, all'assessore Icardi, al consigliere Preiori in perconoscenza e al direttore generale Aslevicio Serpieri. Arriva dopo due parti in emergenza in Ossola in meno di 24 ore. Il primo sabato mattina al Dea dell'Ospedale Domese, protagonista una famiglia vigezzina. Il secondo nella notte tra sabato e domenica nel piazzale del Dea, in questo caso la puerpera è di caddo di Crevola d'Ossola. Mamme e bimbi stanno bene, ma quanto accaduto ha riacceso prepotentemente i riflettori sul punto nascite, ancora chiuso dopo la fase acuta della pandemia. Pizzi parla di grave e incomprensibile inerzia sulla questione da parte delle autorità in indirizzo e ricorda la solenne promessa di riapertura da parte delle stesse non appena le circostanze rispetto all'emergenza Covid fossero mutate. È di tutta evidenza come tali critiche circostanze siano superate, scrive Pizzi, e pertanto il ritardo nella riapertura assume l'indigesto sapore della presa in giro nei confronti della comunità domese e dossolana. Conclude, mi auguro non vogliate attendere che i gravi rischi, corsi recentemente, si tramutino nell'immancabile tragedia per poi intervenire tardivamente, rimarcando l'inquietudine e la preoccupazione che pervadono trasversalmente la collettività domese e dossolana. Sulla stessa linea la lettera del sindaco crevolese Giorgio Ferroni. Come sindaco di Crevola d'Ossola non posso certo restare indifferente, apprendendo dalla stampa che nel 2021 una nostra concittadina abbia dovuto partorire nel piazzale del DEA, scrive. Abbiamo il dovere di chiedere ed ottenere delle risposte sui protocolli sanitari, aggiunge. Ricorda l'impegno preso per la riapertura dei reparti a fine emergenza e, preso atto del cambio di strategia, rimarca la necessità di una condivisione da parte della regione con gli amministratori locali.